Abbiamo fatto il ciclope, ci abbiamo fatto un giro, ci siamo divertiti ed è stato altamente inutile. Per cui ragazzi ho letto i vostri consigli e oggi sono qui per fare un passo indietro. Ritorniamo al Simot, ho deciso di potenziarlo. Ho fatto un po' di cose tra un episodio e l'altro, ho lottato dei materiali un po' ostici da trovare, mi sono un attimo studiato la situazione capendo come funzionano alcune cose e all'interno del ciclope ho installato due vasche, due acquari per inserire dei pesci visto che mi è successo che c'è il cibo marcio eccetera eccetera, d'ora in poi metteremo lì i pesci vivi quando useremo il ciclope. Detto ciò, detto ciò ragazzi, io voglio subito andare a potenziare il mio Simot perché se lo potenziamo per bene diventa un mezzo paragonabile al ciclope così come lo abbiamo ora. Per esempio se io mi porto via appunto il modulo di profondità, con questa postazione posso potenziarlo al livello 2 ma mi serve il plastacciaio, il vetro smaltato che ho già fatto e due di magnetite, il litio che probabilmente non ho più. Questo è un cazzo di problema. Andiamo a cercare al volo del litio, ci sono un po' di posti dove trovarlo se mi ricordassi dove sta la fottuta caverna che ogni volta non trovo sarebbe tutto molto più semplice. Mi dai queste musiche inquietanti però eh? Vabbè pare che io ormai sia totalmente incapace nell'orientarmi in questo mondo quindi probabilmente ci buttiamo semplicemente qui che comunque sia è un bioma bello profondo del piombo che non è quello che cercavo qui c'è del litio Litio, perfetto, ho trovato. Ok, provo a cercarne dell'altro ragazzi scusate ma ogni volta che inizio un episodio sono convinto di aver luttato tutto per bene ma dimentico sempre qualche cosa. Sto vedendo un'ombra strana Che cos'è? Oh cazzo, lì c'è pure un le... Ma ragazzi ma perché c'è un leviatano? Ma dove sono finito? Sì, scisto, scisto Ma perché fa caldo pure? Ho trovato diamante Magnetite Dov'è il mio cazzo di sottomarino? Entra nel fottuto sottomarino Non vedo più niente Muoviti Fammi trovare quello che mi serve Oh litio, grazie Davvero così? Due pezzi di litio? Scisto, oro Torniamo a casa con il materiale Prima di morire di sete Beviamo E poi Ragazzi prepariamo Dunque ragazzi Recuperiamo quindi questo bellissimo lingotto di titanio E ci andiamo a fare il plastacciaio che ci servirà per potenziare il nostro modulo Ok ragazzi Modulo di profondità 2 Questo ci permetterà di raggiungere i 500 metri C'è un problema Volendo andare invece a 900 metri Ci servirà il modulo di profondità 3 Con un altro plastacciaio Che è easy da fare E tre rubini Se i tre rubini ci servono per oltrepassare i 500 metri Vuol dire che massimo a 500 metri li dovrei trovare Quindi perché non li ho mai trovati? Nel mentre vorrei fare altri moduli però per il nostro bellissimo sottomarino Del tipo Sistema di difesa Nope Caricatore solare Potrebbe essere utile? Il sistema di siluri Assolutamente ragazzi Ci serve l'aerogel E il titanio Quindi Avete da sapere una cosa simpatica? Io non ho l'aerogel qua Come si fa sta cosa? Raga non ho l'argento? Mi stai dicendo questo davvero? Allora l'ho trovato mille volte Raga l'ho sempre droppato Perché di quello tanto non mi serve Invece mi serve Anche il rame ci serve in effetti Perché l'ho finito C'è il piombo Che ce lo prendiamo Così nel caso lo abbiamo da parte L'argento trovato La smettiamo di esplodere in giro Avete rotto il cazzo? E ci facciamo sta dannata che avete riavanzato Tra l'altro qui ho sbloccato la barra d'uragno anche Che servirà per il reattore che abbiamo trovato immagino Questo Lama termica con la batteria Qua ci sterilizza piccoli organismi per il consumo immediato Ma facciamola Ma perché non l'ho mai fatta? Ma scusa Aspetta tra l'altro Togli la batteria buona Ci metti questa A zero Così sfruttiamo Ottimizziamo tutto per bene Top la lama termica In questo modo Ciccione cotto Questo è davvero top Quindi ragazzi Io sono pronto ad usare il simot Per andare un po' in giro Adesso possiamo scendere in profondità Prendiamoci giusto un po' d'acqua A sto punto E portiamoci delle scorte d'acqua E basta E ragazzi Si parte finalmente Noi in teoria con il sole ci possiamo anche ricaricare Comunque ragazzi In realtà ci dobbiamo immergere Quindi iniziamo ad immergerci E basta Andiamo da questa parte Non so dirvi perché Ma ricordo che qui si può scendere abbastanza A parte che c'è un mega leviatano Così in basso Non l'avevo mai Raga Ma che cazzo Cosa sta succedendo Cosa fa E' impazzito Lo sto vedendo Raga Aiuto E c'era un sistema di caverne Ma non è per niente profondo Noi abbiamo bisogno di scendere molto Qui ragazzi Ok Qui c'è sicuramente qualcosa Qui si droppa di brutto ragazzi Però è un po' la solita roba Cioè io vorrei trovare qualche Che bella caverna Davvero mi sta seguendo qualcosa? No Ok ciao Cioè questo qui è diamante? Immigata Ragazzi Effettivamente qui credo di non esserci mai stato Ok Riusciamo a trovare Please una grotta Qualcosa Nell'immediato Che cazzo è sta roba? E' una grotta? Oh mio dio ragazzi No non è una grotta Ma è un ambiente che non ho mai visto Ma quanto siamo 1400 metri Quanto diamine ho già viaggiato ragazzi Quanto è veloce sto a fare? Cosa cazzo sto vedendo? Oh mio dio Arachnofobici Chiudete il video Cosa diamo? Che cosa è sta roba? Ma raga ma che posto inquietante Ma che Dove sono finito? Vedete il silenzio che c'è Che inquietudine Cazzarola Ok oddio Che cos'è? E' l'uranio Questo qua Ha voglia di rompere le palle Sicuro Quindi proviamo a Rompergli noi le palle per primi Potresti Non rompere Ok l'abbiamo shottato praticamente Raga questo è per le barre di E' l'uranite Raga Abbiamo fatto il colpaccio a scendere qua Io non so neanche dove Dove mi trovi esattamente Però è davvero top come cosa Ok ho raccolto un po' di questi materiali Questo che cos'è? Un uovo Oh shit Fa davvero schifo però Cioè io un po' mi aspettavo Qualche caverna ricca di Di una flora bellissima eccetera E invece mi trovo questi Cosi Orridi Però diciamo che l'uranite Mi sa di qualcosa di molto molto utile Quindi la prendiamo Raga è pieno zeppo di uranite Qua non so neanche quanto senso abbia Prenderne così tanta Ce n'è davvero un sacco So che mi serve Il rubino Queste sono uova Allontanandoci da Da quello schifo Si Oh mio dio ragazzi Ma è tutto ciò è davvero bellissimo Mingiamoci Oh Il fondo lo vedo Non possiamo scendere più di così però Allora Molliamo qui il mezzo E scendiamo Oh mio dio raga Non sono mai stato così in basso Che cos'è questo? Sacca di gel Ario gel Un'apertura nelle vicinanze Con un sacco di resti fossili No però guardate cosa c'è lì Questo è rubino? Rubino Rubino Brilla il buio Raga è pieno di Di cazzi Di Di mostri orribili Quindi cerchiamo di Fare una cosa Il più possibile Easy Posso accendere il faro Senza la fottuta mappa davanti? Cosa cazzo è quello? Cosa? Cosa? Aspetta fammi prendere aria Raga avete visto? C'è tipo un robo enorme Credo sia morto E c'erano Tipo dei resti Alieni Qualcosa Mio dio ragazzi Cosa stiamo trovando? Ma poi sembra un cielo stellato È bellissimo È bello È proprio tutto bello Ok raga Intanto abbiamo trovato Il rubino L'uragno Cioè Ma di cosa stiamo parlando? Guarda qua che roba Eh raga Il rubino Già che ci siamo Ne prendiamo Tanto eh Perché Ci serve Ci sono tipo delle Sembra Delle paludi Prendine Un paio ancora Di queste ok Torniamo al simot Quello che ho visto Quell'affare gigante Mi sa che era dall'altra parte Però Ehm Dove Come si arriva al simot? Porca troia Raga mi sono Mi sono Inguagliato mi sa Non dirmelo Ok no no Ce l'abbiamo fatta Mio dio che spavento C'era anche un pezzo di rubino L'ho mollato lì ragazzi Perché ho detto No mi sono perso No Non mi guardare neanche Ok era qui sotto Era qui sotto Vai Dobbiamo andare Velocissimi No mi si è spento Mi si è spento Dai mi si è spento Davvero Il Il sea glide Raga che diamine è Tutto ciò Guarda Sensore alieno Sonde di ricerca Guarda sto a fare Cosa cazzo sto vedendo? Oddio che cos'è? Co Oddio raga ci sono un sacco di cose stranissime Davvero c'è Praticamente la razza aliena Ha per qualche motivo Studia Sento rumori bruttissimi Me ne sto andando Ok Stavo dicendo la razza aliena in qualche modo Studiato quell'affare Non so per quale fottuta ragione Però mi sembra evidente che sia questo il caso Qui c'era un altro rubino L'ho preso al volo E altri rubini qui ragazzi Vai Questa roba raga Questa roba per noi vale davvero tantissimo Abbiamo visitato un posto incredibile Siamo abbastanza integri Batteria ci siamo Scafo è a posto ragazzi saliamo Andiamocene Andiamocene Con un altro pezzo di litio Misto questa barra di titanio Ragazzi potremmo già fare Guarda Ario gel Ario fucking gel Lo abbiamo fatto Abbiamo sbloccato materiali avanzati La sacca di gel e il rubino erano esattamente le cose che ci servivano per l'ario gel Oh 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 Come ma No non ho installato Non ci credo raga Non ho reinstallato il modulo Sono un cretino Litio Preso Via Andiamoci Investiamoci tre di rubino E ci facciamo Ragazzi il modulo di profondità a 900 metri Direi niente male Dopodiché ci riprendiamo il nostro aero gel I siluri E ci prendiamo tre pezzi di titanio E ci possiamo creare anche il modulo per i siluri Ne ho appena sparato uno per sbaglio Creando quella cosa lì Va bene ragazzi detto ciò ho fame Quindi andremo a mangiare Catturiamo qualche sbircione direttamente col coltello Abbiamo fatto un sacco di roba figa oggi Abbiamo scoperto cose E abbiamo potenziato il sottomarino Adesso è una vera bomba Nel prossimo episodio Tra sottomarino e nuoto libero Potremmo raggiungere il chilometro di profondità Non vedo l'ora ragazzi Un saluto da Eren Blazer Ciao